Antunes, quinto dell'Open d'Italia, quarto a Monte Carlo, tra virgolette, terzo del campionato svizzero Jonas Rodríguez, la rivelazione della stagione 2008, KF3, quarto classificato Jonas Severin Ambeg, quarto classificato Super Mini Devo rallentare, mi dicono, un pochino, Severin Ambeg, qua abbiamo Jonas Tobias Borel è assente, c'è però Mickey Ritter, quinto KF3 La nostra punta di diamante nella 125 Sport, il simpaticissimo Leo Chirichiello Grazie! Grazie!